La filosofia analogica è una disciplina d'eccellenza che studia l'essere umano nella sua complessità e nella sua lotta costante tra l'istanza logica e l'istanza emotiva. Questa lotta che porta in progressione alla formazione di veri disagi, blocchi comportamentali ed esigenze profonde che spesso non sappiamo decodificare. Ecco, la filosofia analogica interviene proprio per renderti e darti la possibilità di conoscere la tua emozione più profonda che è quella proprio dell'inconscio. Lo fa attraverso la decodifica, la definizione di felicità. La felicità è essere liberi, di perseguire i propri sogni in libertà, in piena libertà. E soprattutto ci dà la possibilità di adentrarci in uno stile di vita che non è usuale e che è differente e che ti dà dignità finalmente, spiegandoti anche quello che apparentemente tu non sai. La nuova disciplina scoperta alcuni anni or sono da Stefano Benemeglio, chiamata appunto filosofia analogica, di fatto si è scoperto essere la base di tutte le discipline analogiche. La filosofia è la scienza del perché e la filosofia analogica è la disciplina che spiega il perché delle discipline analogiche e soprattutto perché le discipline analogiche veramente funzionano e sono di grande utilità nel rapporto con gli altri, nel perseguimento del benessere e del successo. Non solo la comunicazione è parte integrante dello studio di queste discipline emotive, ma anche praticamente un modello di vita che è appunto la filosofia analogica, la quale, filosofia, presenta uno stile di vita tale da poterti permettere di vivere in benessere con te stesso, in pace con la tua coscienza, in libertà per poter perseguire i tuoi sogni. Grazie a tutti!